Questa mattina mi prendo in carico una sfida al limite dell'impossibile che è quella di cercare di spiegare in modo semplice cosa io pensi della vicenda di Ilva, della grande acciaieria di Taranto così importante per la nostra economia, per il lavoro del mezzogiorno, insomma una impresa strategica rispetto alla quale mi pare che il governo non abbia neanche uno straccio di un'idea, non abbia una strategia, non abbia una visione. Ormai il governo è in carica da un anno e mezzo e l'unica cosa che ha deciso di fare è di ricorrere all'amministrazione straordinaria che è comunque una forma di fallimento e quando un'impresa così grande fallisce questo provoca problemi sia per il lavoro che per l'ambiente che per le aziende fornitrici e dell'indotto ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi che è il 6 di marzo 2024. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Nella giornata di ieri in Senato abbiamo votato su un decreto legge del governo che riguarda ILVA, la grande acciaieria di Taranto. È un argomento di cui ci occupiamo di tanto in tanto perché il ministro Urso è venuto in aula per delle informative, perché si tratta comunque di un caso enorme nel senso che l'acciaieria di Taranto è uno dei più grandi stabilimenti industriali d'Italia, da occupazione a tantissima gente in quella città, se consideriamo l'acciaieria e anche il suo indotto, ed è comunque un luogo produttivo fondamentale per il nostro paese. Ricordiamoci sempre che noi siamo un paese grande esportatore e siamo quella che viene sempre definita la seconda manifattura d'Europa. Siamo un paese industriale, la nostra economia si regge proprio sulla nostra abilità di trasformare materie prime, che nella maggior parte dei casi non abbiamo, l'Italia non è un paese ricco di materie prime, ma noi acquistiamo materia prima, la trasformiamo in quella bellezza, in quella meraviglia che è quello che chiamiamo il made in Italy e poi rivendiamo questi prodotti. E la nostra economia si regge spesso proprio sulla nostra capacità di vendere le cose che facciamo a tutto il mondo, si parla di manifattura, se ci pensate questa bella parola significa fare con le mani, proprio la capacità di creare dal nulla trasformando la materia prima dei prodotti che ciascuno, che tutti vogliono comprare in tutto il mondo. Dovunque c'è una classe media, quella classe media aspira a comprare prodotti italiani. E capite che avere l'acciaio per noi è veramente una cosa fondamentale perché l'acciaio sta dappertutto. C'è l'acciaio nelle navi che produce fincantieri, c'è l'acciaio nei mobili del nostro design che fanno grande il salone del mobile, c'è l'acciaio veramente dappertutto, è d'acciaio la posata con cui mangiamo, la rete del letto su cui dormiamo, c'è l'acciaio dentro il cemento armato con il quale si fanno le case e i palazzi. Quindi la nostra competitività davvero dipende dall'acciaio. Ora, è chiaro che la vicenda di Taranto è una vicenda intricatissima ed è una vicenda che tra l'altro ha causato un grande prezzo rispetto alla salute dei tarantini, all'inquinamento di quella città. Però bisogna avere in mente una cosa, che fare acciaio in maniera compatibile con l'ambiente non è una cosa impossibile, non è che si faccia acciaio soltanto con un grande inquinamento. Certo, se si utilizza il carbone, se questo carbone viene poi, diciamo, non viene gestito e quindi nell'aria vanno le polveri e quindi la gente le respira, è evidente che c'è un problema è anche molto grosso. Ma esistono anche in Europa, faccio l'esempio dell'acciaieria di Linz in Austria che è un'acciaieria modello super pulita che produce acciaio praticamente nel centro città. Insomma, per fare acciaio in modo più pulito bisogna fare grandi investimenti e quello che si è cercato di fare in questi anni è stato appunto di trovare un socio privato che sapesse fare l'acciaio, perché tra le altre cose fare la siderurgia non è una cosa semplice, è un'industria molto complessa, molto complicata, nella quale bisogna conoscere molto bene i mercati, i mercati delle materie prime, i mercati di sbocco, bisogna occuparsi di norme ambientali. Insomma, fare acciaio non è una cosa che si improvvisa e quello che è successo negli anni è stato proprio dopo tutta la vicenda della famiglia Riva, insomma io non voglio adesso arrivare ad Adamo e Eva, però quello che voglio dire è che quando nel 2017 si fece la scelta di quale sarebbe dovuto essere il socio privato, alla fine non è che c'era la fila, diciamo così, al Ministero dello Sviluppo Economico, Calenda dovette scegliere tra due cordate alternative, ma che poi erano due, ora il problema che molti individuano in quella fase fu appunto nella scelta della cordata vincente, ma quello che viene da dire a me è che chiunque avesse vinto quella gara poi andava gestito, e il problema che c'è stato è che il grande socio Axelor Mittal, che è uno dei più grandi acciaieri del mondo e gente che l'acciaio lo sa fare, ebbene questa partnership non è stata gestita, la verità è che l'Italia è un luogo dove fare investimenti, è molto difficile, perché l'impegno di Axelor Mittal era un impegno a investire miliardi di euro e di farlo anche per mettere in sicurezza, per bonificare l'impianto, e poi la verità è che lo Stato, a partire dall'eliminazione dello scudo penale che fu stabilita dal primo governo Conte, in realtà quello che è successo è che lo Stato è stato grandemente inaffidabile, ed è vero, noi vogliamo dare la colpa ad Axelor Mittal, e lo possiamo anche fare, ma dal mio punto di vista un investitore internazionale non ha nessuna intenzione di far andare male il suo investimento, un investitore internazionale quando deve scegliere di uscire da un mercato lo fa sempre molto a fatica, perché il suo compito è di fare profitti e di essere messo in condizione di lavorare, se Axelor Mittal investe in Francia, e lo sappiamo che sta succedendo, è perché in Francia magari non gli vengono sequestrati gli impianti, e perché non deve sempre combattere con l'ambiente circostante come succede a Taranto, per chiunque investe a Taranto, in Francia il costo dell'energia elettrica grazie all'energia nucleare è molto più basso, quindi io credo che i governi vari avrebbero dovuto costringere Axelor Mittal a rispondere ai suoi impegni, cosa che sarebbe stata possibile, perché se Axelor Mittal fosse stata messa in condizione di fare degli utili, lo avrebbe fatto volentieri. Questo non è successo e non sta succedendo neanche con questo governo, perché nel momento in cui il governo decide di andare all'amministrazione straordinaria, perché il socio privato ha deciso di andarsene, e tra l'altro il governo non si è neanche reso conto che il socio privato se ne stava andando, è chiaro che poi noi andiamo a ricorrere a una procedura come l'amministrazione straordinaria, che comunque è una forma di fallimento, ed è comunque un fallimento appunto, anche in senso diciamo così a tecnico, perché se un'azienda dove c'è anche un socio pubblico fallisce, è un fallimento vero e proprio, è un'ammissione di non avercela fatta, e questo avrebbe dovuto fare lo Stato, questo avrebbe dovuto fare il Ministro Urso, il quale Ministro Urso dice di essere contrario alle multinazionali, quindi capite che gli investitori internazionali non è che guardino all'Italia proprio come il luogo per fare affari, e dunque ieri abbiamo approvato questo decreto, che è un decreto che mette una pezza su questa amministrazione straordinaria e serve a non mettere sull'astrico le imprese dell'indotto, le imprese fornitrici di ILVA, ma ancora una volta non abbiamo visto un'idea di politica industriale, non abbiamo visto un governo che ci spiega come fare a trarre investitori internazionali, e non abbiamo neanche visto un governo che ci dica che cosa pensa di fare per l'occupazione delle persone che sono lì a Taranto e lavorano per ILVA e anche negli altri stabilimenti ILVA, insomma non c'è uno straccio di idea di politica industriale, non c'è uno straccio di bonifiche e di risanamento ambientale, non c'è uno straccio neanche di politiche sul lavoro. Questo è il bilancio del ministro Urso, come vedete non un quadro confortante, io però mi fermo qui e vi do appuntamento domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.